All'ospedale San Luca, l'arcivescovo di Lucca, Monsignor Italo Castellani, ha presieduto la solenne celebrazione del Corpus Domini. Era la prima volta che la ricorrenza veniva celebrata nel nuovo ospedale ed ha visto molta gente partecipare alla Santa Messa nel cortile centrale dell'edificio. La cerimonia del Corpus Domini è stata uno dei primi eventi religiosi organizzati dal Consiglio Pastorale della Salute, costituito anche nella parrocchia dei Santi Luca e Caterina, come testimonianza della presenza della Chiesa nei luoghi in cui la sofferenza si mischia alla gioia, alla speranza e alla preghiera. Nell'introdurre la cerimonia, l'arcivescovo ha ringraziato tutti i laici e i religiosi che prestano opera presso l'ospedale.